Al via il 21 agosto la rimozione delle macerie all'interno della Basilica di San Benedetto di Norcia. Contemporaneamente saranno messe in sicurezza le pareti interne del transetto sinistro dell'Absite. Lo ha annunciato a Lanza Marica Mercalli, soprintendente alle Belle Arti dell'Umbria. La rimozione delle macerie per una questione di sicurezza inizierà dalla controfacciata della Basilica del Mercalli, per poi spingersi verso il centro e sulla parte absidale una volta che anche in quella zona sarà completato il lavoro di puntellamento che sarà eseguito con l'ausilio dei Vigili del Fuoco. A coordinare le operazioni sarà Claudio Modena, ingegnere dell'Università di Padova, che ha progettato la grande gabbia messa a protezione della facciata. Liberare la parte interna della Basilica sarà determinante, ha sottolineato Mercalli, perché ci consentirà di avere un quadro completo di quello che resta, così da avviare la fase progettuale per la futura ricostruzione. Grazie a tutti.